ciao a tutte e tutti e bentornati a una nuova puntata di matrix dentro di noi il format che una volta a settimana vi porta alla scoperta dei meandri dell'italia che cambia e soprattutto ci guida la ricerca di nuovi antichi punti di vista nuove antiche forme di pensiero la domanda che ci muove sempre la stessa la realtà è veramente quella che percepiamo o i nostri pensieri guidano la nostra percezione in modo spesso superficiale e approssimativo oggi avremo un ospite speciale francesco rosso tra poco ve lo presenterò oltre che insomma un protagonista un vero e proprio agente del cambiamento lo considero anche un grande amico ci conosciamo ormai da tanti anni ma prima di presentarlo non possono partire da dalla dall'attualità da ieri siamo teoricamente tornati parzialmente liberi dopo due mesi possiamo uscire di casa la famosa fase due o una e mezzo come qualcuno l'ha definita iniziata e possiamo abbiamo riacquistato il diritto ad uscire di casa pensate lo possiamo fare per lavorare per motivi di salute o per vedere i misteriosi congiunti pugili di sesto grado sì ma amici fraterni no molto è stato detto sulle distinzioni ma forse il problema più grande è la del responsabilizzazione dei cittadini no comunque la si pensi su questo vaccino su questo questo vaccino su questo virus su questo momento storico a me colpisce tantissimo come abbiamo accettato di essere considerati come esseri umani da controllare ecco subiti da controllare anziché persone eventualmente da responsabilizzare ma il fatto che uno ci debba dire chi possiamo vedere per cui appunto davvero un cugino di sesto grado sia un amico fraterno fa capire come i governanti anche magari in buonissima fede possono aver cercato un criterio per darci dei limiti no ma forse se il tema è la diffusione di qualcosa dovrebbero aiutarci eventualmente a capire come impedire questa questa diffusione anziché limitare la nostra libertà credo che questo sia davvero un grande tema mi piacerebbe approfondirlo da centomila punti di vista è un po trasversare tutte queste puntate e forse proprio per questo anche un po incosciamente ho fissato questa questo incontro di oggi con francesco rosso perché è una persona col quale davvero potremmo spaziare su tantissimi temi no da dalla fattoria dell'autosufficienza di cui è fondatore quindi sul tema della dell'autosufficienza alimentare energetica abitativa e così via all'editoria ma al macro librarsi che questo è importantissimo negozi online ma che in realtà più che un negozio è quasi una comunità di persone che vivono cercando di utilizzare determinati strumenti ha anche proprio filosofia in qualche modo con francesco abbiamo spesso parlato veramente di tutto e quindi ho scelto di incontrarlo oggi proprio per questo perché non ho un tema specifico ma vorrei riflettere insieme a lui su questo momento storico ovviamente partendo poi dalle sue esperienze che sono tante quindi intanto benvenuto francesco ciao daniel grazie mille con francesco ci conosciamo veramente da molti anni io lo conobbi quando collaboravo con macro edizioni molti anni fa lui è tutto ragione all'epoca era veramente giovanissimo forse poco più che maggiorenne già gestiva fiere eventi insomma personalmente con un curriculum che già a 18 anni era di 10 anni che ha fatto tante cose ci siamo ritrovati poi seduti fianco a fianco nel tavolo in uno dei tavoli sulle visioni 2040 quello sull'informazione e la comunicazione prima di parlare di varie cose ti faccio proprio la domanda più aperta di tutte come sta vivendo questo momento storico ma diciamo che lo vivo a tratti in maniera molto differente nel senso che da da un certo punto di vista mi sento una persona estremamente fortunata sempre ma ancora di più in questo periodo ho vissuto questi mesi comunque a casa mia che in un luogo meraviglioso a 750 metri circondato dai boschi dove abbiamo pascoli campi coltivati poi la primavera è uno spettacolo di fiori fra l'altro questi cieli azzurri che non si vedevano così da una vita nonostante che appunto io sia nel parco delle foreste casentinesi quindi comunque è una zona già di per sé molto pulita però vedere questo cielo sempre azzurrissimo limpidissimo mi ricordava proprio quando ero quando ero bambino mi ricordavo questi questi cieli così belli quindi da un certo punto di vista sì vedere la natura forte io ho continuato a fare avanti indietro comunque al lavoro a cesena ma colibrarsi e vedere che gli animali iniziavano a entrare nelle 45 che è questa strada ad alta velocità che percorro e che normalmente è talmente trafficata che chiaramente non ci sono animali per la strada invece iniziare a incontrare gli animali dover rallentare per non mettere sotto gli uccelli proprio l'indicazione di come la natura si stava riprendendo i suoi spazi lato lavoro anche lì non mi posso lamentare ma colibrarsi è stata travolta dagli ordini chiaramente facendo vendita online anche di beni di prima necessità per cui per quanto biologici e naturali comunque alimenti detersivi sapone insomma le carte igieniche insomma le cose che le persone cercavano quindi a livello lavorativo anzi il problema è stato come riuscire a gestire questa mole enorme di lavoro e quindi sì tutto sommato cioè tutto quello che poteva andare bene in questo periodo è andato bene per me e per le mie attività sì la fattoria dell'autosufficienza l'agriturismo e gli eventi sono stati costretti a essere rimandati o chiusi però d'altra parte stavamo facendo tanti lavori quindi anche lì quasi è venuto bene nel senso che stiamo portando il cantiere in tranquillità e tutti i lavori della parte agricola che in primavera sono veramente molto molto impegnativi e fra l'altro era un po' di anni che non mi godevo così tanto la fattoria in primavera no perché comunque sempre preso tanta gente e invece la domenica quel silenzio totale quella pace gli uccellini quindi è stato in realtà molto bello fisicamente mi sento in grande forma e non conosco nessuno che si è ammalato di covid in maniera grave non so forse qualcuno si è anche ammalato forse anche io l'ho preso non so questo non lo so però diciamo che nessuno ne ha avuto delle conseguenze in termini di salute e quindi appunto sembra tutto molto la parte rovescia della medaglia è che quello che vedo fuori e guardando avanti è veramente molto inquietante è veramente molto inquietante 1984 è molto è molto vicino quindi sì questa è d'altra parte i miei pensieri hanno vagato molto e devo anche dire io sono una persona che non ha mai seguito le notizie no lo ritengo importante non seguire le notizie cosa fondamentale e tanti anni che non guardo telegiornali che non leggo giornali e non vado neanche a ricercare nelle agenzie di stampa su internet è proprio ho scoperto che tutto sommato mi piace leggere cose che mi sono utili no e le notizie nel 99 per cento dei casi non lo sono e quindi anche in questo caso devo dire che io non ho visto nessun filmato che è andato in onda sui telegiornali e non ho letto nessun quotidiano quello che sono venuto a sapere lo sono sempre venuto a sapere per riportato e qualcosa attraverso i social ma essendo che facebook è molto bravo a farti vedere solo le cose che pensano i tuoi amici anche lì in una maniera molto selezionata quello che è emerso però era tutto il lato del teatro che stanno montando per rendere possibile queste misure che sono state attuate no? e quindi tutta quella parte che viene definita normalmente complottistica e quindi leggevo queste notizie e iniziavo anche a preoccuparmi no? perché paradossalmente sono notizie molto più gravi del virus che spaventano e terrorizzano molto di più del virus e a un certo punto un giorno ho incontrato un amico che continuava a leggere queste notizie complottiste ed era spaventatissimo terrorizzato non credeva assolutamente che fosse un problema il virus ma era terrorizzato non guardando le notizie quelle ufficiali ma quelle appunto complottistiche e ho detto cavolo ma allora l'effetto è esattamente lo stesso cioè che tu guardi le notizie quelle ufficiali o guardi quelle complottiste l'effetto è che comunque tu sei terrorizzato e impaurito e quello che mi ha fatto pensare è che questa persona mi diceva io ora non sono in grado di fare nulla non sono neanche in grado di pensare perché sono terrorizzato e ho pensato ma guarda te che sia chi guarda le tv e il giornale è terrorizzato e non è in grado di fare nulla e sia chi guarda le notizie complottiste è terrorizzato e non è in grado di fare nulla io per fortuna non mi sono mai trovato in quello stato perché ero molto preso dal lavoro e dalle circostanze e anche da dei bei momenti che passavo su in fattoria però è una cosa che mi ha fatto molto riflettere in questi giorni e penso che un po' come cerchi anche di dimostrare tu e l'Italia che cambia è molto importante evidenziare quella parte positiva quella parte che parla di opportunità di come emergere da questa cosa che poi ci siano dietro tante cose che non tornano questo è oramai palese in questi giorni veramente sono arrivati a superare ogni limite Sì, il nostro collega Andrea degli Innocenti in una segna dice siamo passati dalla sceneggiatura di Black Mirror a quella di Boris Black Mirror perché non lo conoscesse è un telefilm distopico che immagina un futuro tremendo Boris è un telefilm che denuncia un po' in chiave satirica il mondo dei media e diciamo appunto sembra che si oscilli dal panico e dalla promulgazione del panico ha appunto un approccio a volte dilettantistico che poi io vorrei che fosse solo italiano perché poi spesso le persone dicono questo governo, l'altro governo ma io non credo che dipenda che il problema sia un governo determinato ma proprio un sistema tanto che negli altri paesi in modi diversi magari non hanno alcune peculiarità diciamo tipo i cugini di sesto grado però quello che sta avvenendo in modi diversi avviene in varie parti del mondo Io Francesco... Sono stati i più bravi di tutti dai i più bravi e diligenti di tutti a rispettare gli ordini che arrivavano da chissà dove chiaramente molti l'hanno fatto perché mossi da un senso di responsabilità perché poi ovviamente questo ci viene raccontato il tema che spesso proponiamo dentro Matrix dentro questo format è proprio che noi inevitabilmente muoviamo le nostre scelte in base alla percezione della realtà che abbiamo e questa comunque ci viene presentata o dai media o dalle persone in ogni caso arriva dall'esterno perché a meno che uno non possa continuamente girare il mondo inevitabilmente si deve informare o formare da qualche parte prima mi ha molto colpito quello che hai detto cioè sia l'informazione ufficiale che la cosiddetta controinformazione tende a promulgare paura la paura come tu sicuramente sai non è un motore di cambiamento in realtà spesso si pensa in questo momento di crisi magari il cambiamento aumenta in realtà la paura è un freno al cambiamento perché l'essere umano è anche un animale e la paura attiva la parte ancestrale del nostro cervello che è quella della sopravvivenza non è certo quella della progettazione quella della messa in discussione e quindi è per questo un'altra cosa tra quelle che hai detto mi ha colpito molto io non seguo le notizie perché cerco le cose che mi sono veramente utili il vero problema io ovviamente su questo tasto batto da ormai 15 anni è che la maggior parte dei giornali e dei media non danno notizie quindi secondo me non è che tu non segui le notizie sono quell'oro che non danno le notizie Daniel io in questo momento non ti sto più ricevendo aggiungo ancora una cosa e poi ti do la parola giusto perché io mi prendo appunti mentre gli ospiti parlano hai citato 1984 ci tenevo a dire per chi non lo conoscesse che è un meraviglioso romanzo di George Orwell di parecchi anni fa che immaginava un futuro all'epoca era il futuro l'84 in cui gli esseri umani erano controllati 24 ore su 24 da questo grande fratello che era una sorta di dittatura anche mediatica oltre che tutto il resto le persone dovevano conoscere sempre meno parole per avere meno concetti da poter sviluppare e poi la tv ci ha fatto un format il grande fratello in cui metteva della gente in casa e quindi è riuscita anche lì a ribaltare in modo trash un qualcosa di veramente comunque torniamo a noi Francesco tu hai scritto nella tua pagina Facebook ogni giorno cerco di superare il mio precedente io ti volevo chiedere ovviamente di quello che vuoi anche su quello che ho detto io ci mancherebbe però poi ti volevo chiedere anche un commento su questo come intendi con questa frase così particolare? diciamo che la società spesso ci orienta a misurarci con gli altri questo penso che crea catena una marea di problemi psicologici alle persone io ho sempre cercato di misurarmi con me stesso ogni anno solitamente lo faccio all'inizio dell'anno successivo alla fine dell'anno dipende mi prendo ogni anno un mese sabatico in cui solitamente mi allontano anche da quello che è il lavoro da quello che è anche la fattoria dell'autosufficienza comunque un mese che prendo veramente per me in questo mese solitamente cerco un po' di tirare i bilanci io faccio l'imprenditore quindi è abbastanza normale che faccio i bilanci li faccio dal punto di vista economico chiaramente anche il mio bilancio personale qualcuno ogni tanto mi prende per matto perché vede che registro ogni spesa che faccio e ho il mio bilancio economico personale però ho anche un bilancio di appunto chi sono io che cosa ho imparato in che cosa sono migliorato nell'ultimo periodo e questo la ritengo una cosa molto importante nel senso che dire ok l'ultimo anno che cosa ho realizzato che cosa ho fatto sono effettivamente migliorato mi sento meglio di Francesco Rosso dell'anno prima questo è un po' quello che intende la frase riflettere poi a volte magari degli anni può essere tutto roseo degli anni emerge che ci sono diversi conti rosso da migliorare avete appena organizzato a questo proposito delle bellissime giornate di cui avete intendo con Macro Libras delle bellissime giornate io ho avuto anche il privilegio di partecipare insomma questo è live adesso non mi ricordo il nome esatto come l'ha video di consapevole live video di consapevole live e l'invito che avete fatto ai vostri relatori era anche di condividere una foto con scritto io sono il cambiamento e quindi ti giro qua la domanda tu sei il cambiamento? sei sì in che senso? cosa intendi con questo io sono il cambiamento? a livello personale te lo chiedo in questo caso in realtà è una frase che utilizzo molto spesso è una frase che viene chiaramente da Gandhi non me la sono inventata io che diceva sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo penso che questo sia importante sia fondamentale diciamo per due punti di vista in principal modo il primo è che ci viene molto facile indicare agli altri che cosa sia giusto fare è una roba proprio che ce l'abbiamo insita dentro di giudicare gli altri e invece è molto più difficile fare un'autoanalisi di se stessi ritornando un po' anche a quello che dicevamo prima e allora penso che prima di tutto noi dovremmo cercare di fare quello che riteniamo che sia giusto e quello che riteniamo che debba essere il cambiamento prima di tutto dobbiamo farlo noi e molti dicono beh se lo faccio solo io non cambierà nulla io non credo che sia così anche nel piccolo perché se aspetti sempre che il cambiamento lo facciano gli altri e tutti aspettano che il cambiamento lo facciano gli altri non c'è speranza insomma cioè inizia a farlo tu inizia a essere un esempio che non vuol dire essere perfetti io molte volte vengo anche criticato dalle persone e mi fa anche piacere perché è anche positivo e aiuta a migliorarsi però lo dico sempre io non è che perché dico che io sono il cambiamento io sono perfetto e tutto dovrebbe essere così no cioè a me piace molto il concetto voi ne parlate spesso della transizione delle transition cioè inizia a fare sempre un po' meglio dall'oggi al domani non diventerai Dio non diventerai mai Dio no? Molto probabilmente però ogni giorno ritorniamo puoi essere migliore puoi iniziare a fare un cambiamento verso una direzione a livello aziendale questo a volte è intuitivo no? Faccio un esempio stupido devi cambiare ok le sedie in azienda sono da sostituire ok? perché iniziano a essere vecchie e ti piacerebbe mettere tutte sedie nuove ok? quindi un investimento importante a livello aziendale no? e magari quindi questo ti ferma a farlo e quindi compri delle sedie di scarsa qualità no? le sostituisci tutte e le prendi di scarsa qualità no? e questo è l'approccio al non cambiamento no? scarsa qualità invece decidi che ogni volta che si rompe una sedia o che ti servono una sedia nuova inizi a comprarne una di altissima qualità ergonomica che va veramente bene no? e questo è essere il cambiamento no? lo fai un piccolo passo alla volta quindi sì penso che dovremmo giudicare meno gli altri e iniziare a essere noi un esempio per le persone è anche più facile poi sai se io ti dico fai così e io lo faccio all'opposto insomma non suona tanto bene se ti dico fai così e io comunque sto andando in quella direzione è già più facile da comprare concordo concordo pienamente secondo me questo è proprio un punto chiave quando racconto del viaggio in camper che feci nel 2012 il mio primo viaggio insomma in giro per l'Italia dopo un anno mi chiedevano cosa avevi imparato una delle cose più importanti che avevo imparato che sembra banale è proprio quella del non giudicare perché io forse come molti sono cresciuto diciamo rivedendo il mondo tra buoni e cattivi sono quelli che sensibili eccetera eccetera e quelli che non mi piacevano però questo approccio giudicante mi ha sempre mi portava appunto a non riuscire a entrare in dialogo con chi magari non aveva fatto determinati percorsi e anche comunque essere sempre cioè per dire ci sarà sempre quello che ha fatto più di te e quindi lui giudicherà te che non hai fatto abbastanza non so il vegano giudicherà il vegetariano il vegetariano giudicherà chi mangia la carne chi mangia la carne giudicherà chi mangia la carne scadente l'altro dirà tu però allora usi la macchina l'altro dirà tu però no e mentre e soprattutto chi è che ha voglia di essere giudicato cioè se arriva uno e mi dice tu stai sbagliando tutto della tua vita diciamo ah scusa mi hai ragione adesso cambierò invece cominciare a lavorare su se stessi come dicevi anche tu prima confrontarsi con se stessi è stimolantissimo e poi spesso porta l'altro neanche glielo devi dire porta l'altro proprio a chiederti perché stai facendo questa cosa come ti fa stare c'era un mio amico già tanti anni fa che lui diceva io vado alle feste mi porto il bicchiere da casa in anni ancora non si parlava quasi dei problemi dell'useggio eccetera lui diceva io vado alla festa con il mio bicchiere la gente con un bicchiere anche un po' tutto colorato la gente dice ma perché ti sei portato il bicchiere da casa no? e lui diceva allora gli racconto che non mi va di usare l'useggetta ma non arrivo dicendo voi non dovete usare cioè è proprio un'altra un'altra modalità concordo appieno tu Francesco a proposito hai citato poco fa la tua azienda visto che è uno degli temi che volevo toccare oggi più che raccontarci che cosa fa Macronibrarsi l'hai accennato prima e soprattutto con una rapida ricerca su internet per chi non la conoscesse può scoprire tutto insomma anche su Italia che cambia però mi piacerebbe che se hai voglia che ci raccontassi un attimo come appunto hai cercato e stai cercando di portare diciamo il cambiamento visto che di questo stiamo parlando oggi dentro l'azienda non so tempo fa mi raccontavi che finché potevi per esempio facevi tutti i mesi un colloquio uno a uno con tutte le persone che lavoravano lì dentro poi sono diventate troppe forse non ci sei più riuscito però per dire ci racconti qualche esempio di un modo che secondo te visto che una delle cose che spesso mi piace raccontare di chi come te gestisce delle aziende etiche e sociali è che funzionano anche a livello economico quindi non sono solo belle come quando ma avete anche dei risultati non banali diciamolo pure perché è un fatto quindi come riesci a conciliare questi due aspetti che spesso sono considerati inconciliabili l'etica l'ambiente la società il sociale con i risultati ecco diciamo che devo dire che per come sono fatto io non mi sono mai trovato di fronte a un bivio di scegliere fra una cosa e l'altra nel senso che le due cose sono sempre andate molto bene di pari passo sì è chiaro uno potrebbe avere degli enormi risparmi se avesse una modalità differente io per esempio tutte le persone che lavorano da più di sei mesi all'interno dell'azienda o massimo un anno in qualche caso particolare hanno un contratto a tempo indeterminato e questo è quello che prespetto a tutti quelli che iniziano a lavorare in azienda è chiaro che per me è un rischio quello che mi assumo perché se l'azienda avesse dei problemi sai è sempre un problema riuscire a gestire queste cose però diciamo che fortunatamente problemi non ci sono mai stati e quindi non me lo sono mai posto anche nel nostro magazzino dove lavorano 25 persone sono tutte persone assunte mentre invece ogni volta che viene un consulente o che parlo con qualche imprenditore ma il magazzino ma scusa fai venire quelli della cooperativa ma che senso ha che tieni un magazziniere assunto però non sono neanche d'accordo che dal punto di vista economico sia una scelta intelligente perché è vero sì la cooperativa la paghi di meno la cooperativa ti dà un'estrema dinamicità un giorno vieni l'altro no sono cavoli della cooperativa però d'altra parte chi è quella persona che viene dalla cooperativa che motivazione ha quella persona che viene dalla cooperativa che affezione ha all'azienda quella persona che viene dalla cooperativa che input di miglioramento può darmi quella persona che viene dalla cooperativa poco molto poco è molto diverso rispetto invece a una persona che lavora con te da anni che conosce il lavoro che conosce l'ambiente che sa che può comunicare un miglioramento e quel miglioramento sarà preso in considerazione che sa che può chiedere un giorno di non venire a lavorare perché ha un impegno e questa non si ricorderà in un problema che sa che comunque c'è la disponibilità a venire incontro alle esigenze del collaboratore se si sposano anche con le esigenze dell'azienda no? sì in realtà c'è sempre un rovescio della medaglia ti può sembrare come imprenditore di avere un risparmio ma di fatto il risparmio non esiste facevo prima l'esempio stupido delle sedie no? sì io posso dare una sedia non di qualità al collaboratore che lavora in azienda e può sembrare un ottimo risparmio però poi quel collaboratore avrà magari mal di schiena no? e quel mal di schiena se lo porta al lavoro e lavorare col mal di schiena non è come lavorare se sei in salute no? e quindi sì mi viene da pensare che sono sempre dei risparmi molto a breve termine a me piace sempre e anche a livello aziendale avere una visione a lungo termine io sono una persona che pianta sequoie per esempio mi piace piantare le sequoie so che non vedrò le stesse sequoie che ho visto negli Stati Uniti in Nuova Zelanda di 200 300 anni che sono dei monumenti spettacolari ma l'idea che in quel posto fra due e trecento anni ci sarà un monumento di quel tipo è qualcosa che mi gasa tantissimo mi piace e quando mi trovo di fronte a un monumento come una sequoia piantata due o trecento anni fa ringrazio quella persona che due o trecento anni fa ha pensato di piantarla perché se no non ci sarebbe allora anche a livello aziendale anche ma colibrarsi se hai una visione più a lungo termine e quindi non ti interessa tanto il breve termine nello specifico parlando di personale c'è tutta la convenienza a che le persone siano estremamente contente e soddisfatte che le persone siano perfettamente in salute e che le persone in qualche maniera si sentano partecipi all'azienda e senti sempre su questo argomento tu se non ricordo quanti anni avevi quando sei entrato amministratore veramente pochi cioè giovanissimo 21 21 esatto e cosa come hai fatto tra virgolette cioè come cosa significa dirigere un'azienda che comunque già all'epoca aveva non ricordo i numeri ma pochissimi indipendenti oggi credo di più però insomma così giovane come ti guardavano gli altri sei riuscito subito avevi un po' la timidezza di dire boh sono anche apparentemente il più giovane qua dentro come è stato come l'hai vissuta questa cosa ma diciamo che l'azienda era completamente diversa nel senso che in azienda complessivamente c'erano sette persone quando sono entrato oggi le persone 70 quindi è decilitata quanti anni Francesco in quanti anni era il 2006 quindi 14 anni quindi sì l'azienda era completamente diversa io non avevo nessun tipo di competenza chiaramente imprenditoriale nel senso che non l'avevo mai fatto stavo studiando economia in quel momento a Rimini e fra l'altro nel momento che sono diventato amministratore delegato dell'azienda ero anche webmaster altra cosa che non avevo mai fatto in vita mia di cui non avevo nessuna competenza cioè la mia formazione da webmaster è durata circa quattro ore che è stato il colloquio che ho fatto con la persona che ha lasciato l'azienda e mi ha lasciato la palla mi trovavo diciamo che sono entrato io come dicevi tu da quando avevo già 12-13 anni facevo le fiere comunque mi piaceva essere indipendente andavo a aiutare in magazzino quando avevo 21 anni appunto venne fuori questa opportunità di gestire il sito internet fra l'altro mi spinse molto mia madre in questa cosa io gli ho detto ma guarda io non so neanche usare un computer come posso gestire a un sito internet ma no ma secondo me lo puoi fare dai poi una cosa che riesci a farlo sposare bene con l'università perché intanto non hai degli orari fissi puoi lavorare quando vuoi e così via e quindi niente feci questo colloquio di quattro ore con chi faceva prima quel mestiere e iniziai a provare questa cosa parliamo del 2006 quando internet praticamente e gli acquisti su internet erano inesistenti nel senso che non c'era my commerce non esisteva amazon per intenderci è stato cinque anni dopo e quindi mi misi a fare questa cosa del sito internet in maniera molto autodidatta e la cosa mi prese tanto è strano perché oggi non sarebbe per nulla nelle mie corde per esempio però al suo tempo questa cosa mi prese e quindi iniziai ad aggiornare il sito internet è andata a fare le newsletter a comunicare con i clienti e dopo pochi mesi venne fuori che l'azienda era in forte difficoltà comunque Marco Librasi era stata aperta solo cinque anni prima no quattro anni prima perché era una branca della casa editrice macroedizioni che faceva vendita diretta a privata era in forte difficoltà perché era da quattro anni che accumulava perdite quindi non si sapeva come recuperare queste perdite quindi probabilmente l'azienda bisognava chiuderla o comunque bisognava rivederla perché così non funzionava e era appunto gennaio del 2006 e io era tre mesi che lavoravo al sito internet e in quegli anni lì veramente qualsiasi cosa facevi su internet i risultati li vedevi immediati cioè l'indicizzazione che oggi devi parlare con consulenti super pagati super esperti eccetera e a quei tempi non c'erano fornamente contenuti nel web quindi qualsiasi contenuto tu inserivi soprattutto se era qualcosa di innovativo ma nel nostro campo qualsiasi cosa inserivo era innovativo veniva super indicizzato e quindi io vedevo i dati vedevo che il pubblico aumentava e dissi no questa è un'azienda che può funzionare bene e allora mia madre di nuovo mi disse ma perché non la gestisci tu che tuo babbo fa sempre dei gran casini fa sempre mille robe la casa editrice le fiere ha mille idee mio padre è un pozzo di idee ogni giorno ne ha dieci nuove e poi è anche uno che le vuole realizzare e quindi fra l'altro anche tutte molto belle solo che poi a volte gli manca l'energia per riuscire a seguirle tutte e alla fine mi feci convincere la mia madre e incredibilmente mio padre mi dette piena autonomia responsabilità totale da subito cioè io dal giorno che disse tu sei amministratore delegato dal giorno dopo io non l'ho mai più visto in azienda ha iniziato a seguire meglio la casa editrice macroedizioni e quindi mi sono trovato insieme a queste 6-7 persone a gestire questa azienda senza avere minima conoscenza nel senso che dopo qualche giorno mi ricordo chiamare al telefono mio padre e gli dici ma qui c'è il commercialista che mi parla di questo io non so neanche che cosa fa il commercialista insomma spiegami un attimo e quindi fondamentalmente quello che ho iniziato a fare è stato essere il cambiamento che volevo vedere nell'azienda e quindi ho iniziato oltre a seguire il sito internet a rispondere alle chiamate a lavorare in magazzino a seguire il commercialista ad assumere le persone eravamo in 6-7 fondamentalmente tutti facevamo tutto e da lì le cose sono partite e sono partite veramente molto forte era il momento giusto per internet e probabilmente sì ho una caratteristica a me piace molto fare ordine a me piace molto pulire e fare ordine e penso che questa sia una caratteristica fondamentale a livello aziendale cioè se sai pulire e fare ordine ma pulire intendo pulire lo scaffale cioè spazzare ecco in realtà esistono studi che dicono che puoi incrementare la produttività aziendale del 25-30% solo pulendo e facendo ordine ecco per il momento quell'azienda lì aveva bisogno di pulizia e ordine e con la pulizia e ordine poi le cose sono andate molto bene i primi 5-6 anni ho trascinato l'azienda solo con l'esempio non avevo oggi sento comunque di avere delle capacità manageriali imprenditoriali abbastanza importanti allora erano nulle non sapevo neanche come andavano i conti finché non arrivavo alla fine dell'anno li vedevo col commercialista era molto intuito forza d'animo ideale ed esempio poi col tempo ho acquisito anche quella che era la formazione necessaria ti ho chiesto Francesco di raccontarlo perché spesso una delle quando andiamo in giro a raccontare le storie d'Italia che cambia quello che avverto nelle persone è una forte incredulità verso il fatto di poter fare le cose di poterle fare se si è giovani di poterle fare se non si hanno soldi di poterle fare se non si ha certe competenze e così via mentre io diciamo gran parte degli esempi di esperienze positive incontrate in questi anni erano fatte da persone che spessissimo non avevano particolari vantaggi nel partire nel senso o non avevano i soldi o magari avevano i soldi ma per esempio come nel tuo caso non avevano nessun tipo di esperienza in quel settore eccetera eccetera spesso forse davvero manca solo un po' il coraggio di mettersi in gioco ovviamente poi la volontà la determinazione il talento cioè questi sono fuori discussione però io ho conosciuto personalmente persone che avevano volontà talento competenze quindi non era quello il problema ma proprio questa paura che era anche quella che hai detto all'inizio stavano seminando tutto oggi meglio cioè la paura di mettersi in gioco quindi di fare a livello imprenditoriale come a livello personale e sociale e altre cose pensa Daniel che poi questa paura in Italia è molto più bassa rispetto ad altri paesi del mondo se andiamo per esempio nei paesi anglosassoni invidiano invece la nostra capacità di intraprendere quindi e tant'è che lì si hanno tantissime grosse aziende e pochissime piccole aziende che è l'esatto contrario nostro no? infatti per me appunto storie come la tua mi hanno proprio anche spinto anche nel mio personale nel senso che io un po' performamenti sono anche sempre messo sui miei progetti e tutto però prima di fare questi viaggi in Italia che cambia avevo molto la sensazione di non poter cioè lo facevo perché era troppo forte la voglia di farlo ma avevo anche spesso la sensazione di non poterlo fare però in qualche modo che il contesto non me l'avrebbe permesso poi a forza rincontrare persone che ce la facevano ho detto cavolo non posso più raccontarmi che non si può fare credo che anche di fronte ai problemi forse una delle grandi insegnamenti che ho avuto in passati esperienze lavorative era anche dove metti l'attenzione quando non vanno le cose cioè alcune persone che ho conosciuto ad esempio tendevano sempre a colpevolizzare la gente il pubblico i miei lettori i miei no? non capiscono io diciamo quello che ho imparato perché non è quando una cosa non va dirsi ok dove ho sbagliato quindi come posso fare a migliorare non giudicare ma proprio in un'ottica migliorativa ok questa cosa non ha funzionato non perché il messaggio non era buono perché la gente è cretina ma perché probabilmente ho sbagliato la modalità esatto ma io ci sono tantissime cose che ho avviato che non hanno funzionato nel senso che è abbastanza normale nel senso che come si dice da noi in azienda si dice sempre che fare errori che non è sbagliato no? spesso chi non fa errori è perché non fa se fa è normale che sbagli senti a un certo punto sempre in questo tuo percorso hai fatto un'altra cosa a proposito di fare questa è andata bene che è la fattoria dell'autosufficienza anche qui ci vorrebbero ovviamente ore, giorni anche sui tali cambi abbiamo intervistato più volte su questo quindi la presento io in tre secondi perché se no davvero ci prendiamo troppo è un meraviglioso progetto forse unico in Italia nel suo genere di messa a terra di tutto ciò che prevederebbe di tutto di molto di quello che prevederebbe i principi della permacultura dell'efficienza energetica della sussistenza a livello alimentare a livello energetico è un posto meraviglioso in Romagna che invito tutti ad andare a visitare a partecipare alle attività veramente un'esperienza straordinaria con Francesco ce lo riusciamo spesso senza ipocrisia Francesco ha potuto realizzarlo anche perché aveva dei capitali dell'azienda e così via ovviamente ma ha realizzato un prototipo stupendo in cui tutti noi possiamo prendere pezzi io mi sto nel mio piccolo ristrutturando casa una piccola casa in un piccolo paesino non ho nulla a che vedere con la grande però dopo aver visitato la sua la sua fattoria ho portato nella mia casa alcuni pezzetti quindi ti faccio due domande su questo uno è perché l'hai voluta fare anche se io lo so però mi piacerebbe che ce lo raccontassi e l'altro è proprio cioè perché l'hai voluto fare proprio a livello di senso profondo anzi ti chiedo solo questo però perché cosa ti ha spinto già ce la devi macro librarsi la voglia di viaggiare non è che sei uno che non ha interessi chi te l'ha fatto fare di mettere su questa cosa cosa ti ha spinto ma allora è cambiato devo dire negli anni o meglio si sono aggiunte motivazioni negli anni il motivo stretto per cui partì per cui abbiamo deciso in realtà come famiglia non da solo ma come famiglia decidemmo di acquistare questi 70 ettari di terra completamente abbandonati in montagna non tanto distante da macro librarsi perché ci vuole circa una mezz'ora anche se sono 50 chilometri comunque in mezz'ora si arriva fu essere resilienti come famiglia questo è stata la spinta poi dopo in realtà si sono aggiunte lungo il percorso tantissime motivazioni oggi potrei dire forse 100 motivazioni per fare la fattoria dell'autosufficienza considera che quando acquistiamo quei terreni io non sapevo neanche che cos'era la permacultura non sapevo non ne ero mai fra l'altro ero stato due anni prima o l'anno prima in Australia e mi sono mangiato le mani dopo perché sono stato in Australia senza sapere cosa fosse la permacultura il motivo per cui acquistiamo quei terreni era un'analisi ferma di quello che ci circondava e anche dei rischi che ci circondavano il 2008 fu l'anno in cui crollò Lehman & Brothers e l'inizio della famosa crisi economica finanziaria ma quello che era sotto gli occhi è che non c'era solo da aspettarsi una crisi economica finanziaria c'era da aspettarsi una crisi sociale una crisi ambientale una crisi energetica e di conseguenza molto facilmente anche una crisi alimentare e quindi la fattoria dell'autosufficienza è nata proprio come progetto di resilienza per poter essere appunto come famiglia autosufficienti nel caso di una catastrofe di qualsiasi tipo una catastrofe dovuta appunto al fatto che per qualche motivo non ci arriva più l'energia dai paesi dall'Arabia e dalla Russia o per qualche motivo c'è una grossa siccità o appunto cambiamenti climatici chi più ne ha più ne metta insomma quindi e d'altro punto riuscire a offrire un modello che in parte o anche per intero sia replicabile da parte delle altre persone però allo stesso tempo essere resilienti quindi pronti ai cambiamenti che dovremmo vivere in futuro perché ci sentiamo in qualche modo ci sentivavamo e ci sentiamo tuttora forti di Portero Frida un esempio perché comunque è dal 1987 che con la casa editrice abbiamo fatto cultura sulla resilienza personale in qualche modo sulla resilienza in termini di salute della persona in termini appunto di autoproduzione di cibo e di autoproduzione in generale quindi è stato anche una sorta di passo per dire ok per 30 anni abbiamo comunicato che cosa bisogna fare abbiamo dato gli elementi e gli strumenti per che cosa bisogna fare adesso lo facciamo e quindi oltre a darti appunto gli strumenti ti diamo anche la possibilità di vedere un esempio e quindi questo fa sì che la fattoria dell'autosufficienza poi nella realtà non è solo un'azienda agricola è anche un'azienda agricola la coltivazione del cibo ha sicuramente un'importanza fondamentale ma in realtà cerchiamo di sviluppare tutti gli aspetti per esempio per me l'aspetto della salute è fondamentale non che questo non venga comunque considerato dalla permacultura la permacultura infatti solitamente parte sempre dalla zona zero zero che considera appunto l'uomo cioè considera i bisogni primari dell'uomo e quindi alla fattoria dell'autosufficienza cerchiamo anche di essere molto attenti a questo tipo di bisogni ecco hai toccato un altro tema di quelli che si trattano in pochi minuti che è la salute no tu come alcuni chi ti segue sa sei cresciuto senza vaccini cioè non sei mai stato vaccinato se non da quanto mi raccontavi l'ultima volta ci siamo visti non hai mai preso farmaci nella tua vita o forse una volta non mi ricordo comunque sei cresciuto senza farmaci toccando ferro stai benissimo fisicamente sappiamo che il tema dei vaccini è un tema che divide tantissimo l'opinione pubblica i novax quelli che pensano che i vaccini siano fatti per controllare l'uomo quelli che pensano che invece i novax siano sostanzialmente degli assassini che egoisti e pazzi che si vaccinano per qualunque cosa ora ovviamente il vaccino è molto al centro del dibattito anche per il covid e così via c'è chi probabilmente ci vede anche molti interessi economici e oggettivamente degli interessi economici senz'altro ci sono questo oggettivo il nostro ministro ha preso mazzette ed è stato insomma il nostro ex ministro della salute che inserì il vaccino antiepatite B e si sa che ha preso una mazzetta da Glaxo Smith Klein per inserire il vaccino quindi insomma non è è una notizia ufficiale al cento per cento l'ex ministro chiariamo è un ministro attuale comunque qualunque sia adesso cioè proprio è un tema complesso che è stato tanto dibattuto il tuo gruppo è la tua casa editrice diciamo non la tua in questo caso la casa editrice la tua famiglia ha portato molte informazioni su questo ma più che entrare nel dibattito non perché non mi interessi ma perché ci vuole oggettivamente almeno una puntata dedicata però quello che posso chiedere a te è per chi non la conosce appunto invece la tua esperienza come essere umano tu comunque non hai mai avuto un vaccino sei uno che viaggia che si muove e non prende farmaci e stai bene di salute come stai come è stato crescere senza nessun tipo di cioè come è possibile come stai fisicamente dicelo tu perché l'ho detto io ma tu è stimolato non ce l'è così è vero non hai mai avuto problemi io sono in piena forma fisica non so chi sia il mio medico di base perché penso di averne uno che ho visto l'ultima volta dieci anni fa quando ho fatto il certificato medico per correre la maratona di New York non ho mai preso un farmaco ma come farmaco intendo perché poi c'è qualcuno che pensa che l'aspirina non sia un farmaco o che il moment non sia un farmaco ecco io li considero tutti farmaci devo anche dire che non ho mai praticamente mai preso omeopatici quindi né all'opatico né omeopatico è un tema questo che col tempo chiaramente quando sono nato sono stati i miei genitori che hanno deciso di non vaccinarmi io li ringrazio per questo ho saltato anche due anni di scuola avevo i vigili davanti a scuola che non mi facevano entrare perché non ero vaccinato e quindi pericoloso per i miei compagni di classe dopodiché non ho avuto fortunatamente più problemi viaggiando alla fine anche lì non ho mai avuto problemi non mi hanno mai costretto alla vaccinazione non so se qualche volta ho scritto che ero vaccinato ed è stato sufficiente quello però di fatto non mi hanno chiesto prove ed è un argomento che poi pian piano mi ha sempre più interessato non tanto la vaccinazione in sé mi interessa poco ma il concetto in generale di salute e soprattutto il concetto di indebolimento della specie umana io non sono un medico non ho studiato medicina ho studiato come perito agrario e ho fatto nella mia scuola di agraria si poteva fare una specializzazione in allevamento e quindi ho studiato l'allevamento quello che mi è molto chiaro e difficilmente può essere smentito da chiunque è che un animale sano solitamente in un allevamento viene riprodotto un animale non sano solitamente nell'allevamento non viene riprodotto perché se tu hai animali sani che fai riprodurre tendenzialmente nascono degli altri animali sani se gli animali non sono sani alla lunga crei dei problemi perché faccio questo esempio questo è successo volontariamente o non volontariamente per tutta la storia dell'uomo fino ad arrivare all'era in cui all'era farmaceutica nell'era farmaceutica questo non sta più succedendo perché comunque anche se io non sono in grado di partorire posso fare il parto artificiale posso fare la fecondazione assistita posso fare tutta una serie di cose e anche se sono malato sono tenuto comunque costantemente in vita dai farmaci tutto questo cosa porta? porta a una graduale indebolimento ma in alcuni casi è un indebolimento che ci potrebbe anche stare nel senso che se uno nasce purtroppo sfortunato io per esempio ho avuto la fortuna di nascere sano però c'è chi effettivamente nasce non sano e questo è un grosso problema ci può fare poco ma una persona che invece nasce sana e che decide di sottoporsi a vaccini di sottoporsi a farmaci che cosa fa? lentamente annulla il proprio sistema immunitario perché il corpo intelligente non spreca energie a cazzo cioè se le energie servono le utilizza se non servono non le utilizza quindi se hai un piccolo problema e assumi subito il farmaco e sappiamo che il farmaco non cura la malattia cura il sintomo cioè se io ho male a un ginocchio e prendo un antidolorifico non è che si è risolto il problema al ginocchio non sento più il dolore se ho mal di testa se ho la febbre e prendo un'attacchipirina non è che ho risolto il problema che mi ha fatto venire la febbre è vero che la febbre mi va via ma mi verrà poi un problema più grande questo è abbastanza chiaro la febbre viene sempre per risolvere un problema la malattia viene sempre per risolvere un problema allora cosa succede che se io pian piano continuo ad assumere vaccini farmaci antibiotici il mio corpo pian piano si adatta a questa cosa e il mio sistema immunitario va a cadere tornando all'esempio degli animali cosa succede che mio figlio avrà un sistema immunitario scarso perché io ho fatto uso di farmaci e vaccini e quindi ho abbassato il mio sistema e il figlio di mio figlio e questo cosa sta portando sta portando a una grossa sterilità dell'essere umano in questo momento gli indici di sterilità sono aumentati enormemente e ha un forte indebolimento dell'essere umano l'essere umano è debole è estremamente debole anche l'aumento di allergie continuo allergie tolleranza il discorso dell'autosufficienza perché è fondamentale e perché è fondamentale partire dalla salute perché l'essere umano non è stato mai così debole nella storia dell'umanità cioè noi dipendiamo oggi da un piccolo gruppo di multinazionali per qualsiasi cosa cioè c'è c'è la tanta gente che senza la casa farmaceutica non è in grado più di sopravvivere perché ha distrutto il proprio sistema immunitario c'è della gente che se il supermercato chiude dopo tre giorni non sa che cosa mangiare c'è della gente che se la pompa che gli porta l'acqua in casa non sa più come prendere l'acqua c'è della gente che se la Russia decide di chiudere il rubinetto del metano dopo tre mesi sta al freddo dentro casa e purtroppo questa è la gran parte della popolazione dipendiamo da qualcuno per qualsiasi cosa ed è qualcuno che non ha a interesse noi ha interesse ad aumentare i propri profitti e nell'ambito farmaceutico questo è mostruoso cioè se noi andiamo a guardare a leggere le storie delle case farmaceutiche ci sono vengono condannate in continuazione per disastri che creano in Africa fanno delle schifezze allucinanti e sono dati ufficiali che ci sono dappertutto e se ti ritrovi come dicevo prima che una casa farmaceutica che fa l'altro è la stessa che oggi propone i vaccini deve dare la mazzetta al ministro De Lorenzo per far inserire il vaccino è chiaro che ci sono degli interessi economici dietro grandi come una casa e gli stessi interessi economici che vengono tutelati in questo momento storico nel Parlamento perché tra questa task force c'è una marea di gente che ha dei grossissimi conflitti di interessi perché non puoi mettere gente che è dentro che lavora con le case farmaceutiche a gestire una situazione di questo tipo quando il conflitto di interesse è veramente estremizzato al limite quindi come vivo io per concludere mi piace la parola è quello che ho sperimentato io e che continuo a sperimentare e che vedo nei miei fratelli e che vedo in tanti amici che hanno fatto la stessa scelta è che è assolutamente possibile vivere senza i farmaci e i vaccini il nostro sistema immunitario ha 300.000 anni di esperienza questi vaccini li hanno fatti ieri l'altro i farmaci uguali poi non vuol dire che io sono contro perché poi dopo mi viene rivoltata la frittata mi dice ah tu sei contro i farmaci tu sei contro il sistema immunitario no non sono contro cioè se io avessi un'urgenza vado in ospedale e se mi serve un farmaco prendo il farmaco ok nel senso che un farmaco ci può salvare la vita il pronto soccorso ci può salvare la vita quindi non è che sono contro a priori ma secondo me nel 99% dei casi si può fare a meno io l'influenza non la prendo le persone dicono ah prendo l'influenza c'era un medico molto simpatico che diceva ti viene l'influenza prendi il farmaco dura sette giorni ti prendi l'influenza non prendi il farmaco dura una settimana stiamo parlando della stessa cosa cioè non cambia niente il nostro sistema immunitario è pronto a rispondere a un'influenza è bene che venga quell'influenza se deve venire a me a volte capita che esagero col lavoro o esagero con la mia mente con i miei pensieri e mi viene un mal di testa e cavolo vado a casa mi metto a letto e aspetto che il mal di testa passi è vero potrei prendere la pillolina e magari quella sera avevo un appuntamento che invece sono stato costretto a rimandare ma sarà ben più importante la mia salute sarà ben più importante che per i successivi 364 giorni io sia pienamente in salute che quella cazzo di serata che vado a perdere tra l'altro Francesco quello che molte poche persone secondo me riflettono è il fatto che la maggior parte se non tutte le aziende farmaceutiche sono aziende quotate in borsa il che significa che da statuto devono rispondere agli azionisti quando qualcuno deve rispondere agli azionisti il suo obiettivo proprio per legge tra virgolette deve essere aumentare i fatturati quindi vendere più farmaci se io sono quotato in borsa e paradossalmente inventasse un farmaco per cui la gente non deve prendere più farmaci starei tradendo i miei azionisti perché detto questo io ovviamente non ho come giornalista non posso non ho prove per dire non sto dicendo tutti i farmaci appunto non vanno presi i vaccini fanno bene o non fanno bene perché non hanno le competenze però mi interessa testimoniare l'esperienza di chi come Francesco invece ha questo tipo di racconto qualcun altro direbbe sì però c'è il tema dei soggetti ogni volta si porta questa tematica quando si parla dei vaccini certo tu anche se ti ammali non succede niente ti intendi il problema dell'immunodeficienza tu diventi portatore una grandissima cazzata perché mi devi spiegare come riescono a portare questo tema di fronte a una vaccinazione obbligatoria come il tetano che non è trasmissibile allora se quella fosse la reale causa intanto elimina tutte le le malattie che non sono trasmissibili e poi magari ne riparliamo perché ora come ora non regge non regge proprio non regge purtroppo dobbiamo quasi salutarci anche sia perché sta finendo l'ora sia perché tu so che hai un altro impegno tra poco quindi ti dico due cose ancora una su questo proprio l'approccio tra l'altro di questo format il matrice dentro di noi è che la cosa più importante sia la scelta consapevole e quello che veramente viene un po' come tornando al discorso iniziale sul fatto di obbligare le persone a vedere magari cioè non poter vedere l'amico ma quello di sesto grado sì il il responsabilizzare le persone non dovrebbe mai portare a doverle obbligare a fare qualcosa no? se io ho stato rispetto ai miei cittadini evidentemente eventualmente propongo faccio campagne di informazione che spiegano i vantaggi di un vaccino di una medicina o di qualunque altra cosa nel momento in cui devi obbligare qualcuno stai diciamo perdendo anche autorevolezza credibilità perché stai considerando i tuoi cittadini appunto non come esseri liberi ma come sudditi però ti chiedo una chiusa su questo uscendo da questo tema ma prendendo un spunto che è il confine tra la libertà e la responsabilità io ho voluto chiamare questa puntata possiamo cambiare davvero la tua storia è una storia di cambiamento tu incontri tutti i giorni e racconti in qualche modo con la tua esperienza tua della tua azienda della tua fattoria persone che vogliono cambiare vogliono cambiare vita vengono appunto nella tua fattoria comprano i tuoi prodotti quindi diamo una chiave per prima di salutarci su questo qual è per te il confine tra libertà e responsabilità e come vedi il cambiamento dal tuo osservatorio privilegiato questa è una domanda abbastanza complessa il confine tra quindi non lo lo consideri relativo alla vicenda che stiamo vivendo adesso a me piacerebbe allargarlo però scegli tu ovviamente sei libero di rispondere come vuoi ma secondo me ne hanno parlato in tanti esistono delle libertà che sono sancite da tanti organismi che sono che ci hanno lavorato tanto e ben oltre di me che sono i diritti fondamentali dell'uomo diciamo che forse quello è la carta più più completa che mi viene in mente ecco io penso che la responsabilità non potrebbe mai prevaricare comunque la libertà dei diritti fondamentali non so se può essere una risposta però è una risposta che la vedo molto legata al momento a quello che stiamo vivendo non so a livello più ampio dammi qualche spunto per capire meglio dove vorresti arrivare no non ho un punto dove voglio arrivare è proprio una cosa su cui mi interrogo spesso nel senso che io credo che la mia indole deve essere profondamente indipendente autonomo e sono diciamo refrattario a qualunque tipo di limitazione imposta quindi preferisco sempre per dire a volte dico una cosa sciocca e so che è sciocca ma per farti un esempio se c'è un semaforo pedonale rosso ma non c'è nessun pedone in mezzanotte non c'è nessuno a me stare fermo lì mi fa sentire cretino poi ci sto ma mi sento cretino io vorrei qualcosa che mi faccia fermare se c'è un pedone però capisco anche che la società ha bisogno di regole perché non tutti hanno gli stessi strumenti senza giudizio lo dico a volte anche a questioni come si è stati formati educati cresciuti eccetera quindi ripeto non è che non ho una risposta è una domanda è una domanda io non sono un anarchico quindi non credo che sarebbe possibile vivere bene in una società anarchica tante persone probabilmente hanno proprio anche la necessità di sentire un controllo no? una cosa che mi dà molto dispiacere è che per esempio in questo periodo ci sono delle persone che godono proprio a vedere questo controllo così forte no? e spesso mi confronto anche con mio fratello Serafino che fa l'archeologo e studia storia medio orientale e quindi lui si trova molto spesso nei paesi del medio oriente no? e mi dice spesso che quelle persone lì sono persone che non accetterebbero mai una democrazia perché invece hanno bisogno di qualcuno a capo che sia forte che dia delle regole no? e effettivamente questa è una cosa che io la sento spesso no? questa necessità di alcune persone di avere delle regole ferree no? però mi viene da dire che non lo vedo come un confine tra libertà e responsabilità cioè al contrario sono persone che non sono in grado di prendersi delle responsabilità no? e quindi preferiscono tagliata la libertà cioè preferiscono che ci sia meno libertà in maniera che comunque ci sia qualcun altro che decide no? quindi una de-responsabilizzazione e questo avviene prima di tutto nella non tanto nella società ma avviene prima di tutto dentro se stessi no? è un argomento di cui ne abbiamo parlato più volte no? durante questa questa diretta nel senso che le persone tendono a non volersi prendere responsabilità della propria vita no? e le persone che non si prendono responsabilità della propria vita figurati se se le vogliono prendere della propria società cioè e si parte sempre da dentro no? io invece credo che noi siamo assolutamente responsabili di quello che ci accade e e penso che potremmo essere se diventiamo conscienti o meglio consapevoli di essere responsabili di ciò che accade lo potremmo essere anche della società ma visto che questo non c'è allora penso che delle regole siano siano necessarie senza però ledere quei diritti fondamentali di cui assolutamente tra l'altro questo discorso è applicabile molto anche alle aziende al tema della responsabilizzazione oggi non abbiamo approfondito uno dei temi che mi avevi raccontato che porti dentro la Cri Barsi che anche noi nel nostro piccolo facciamo con Italia che cambia eccetera è quello proprio della responsabilità e non del non dover controllare chi lavora con noi ma anzi diciamo per me è una rottura di balle per tutti e due cioè sia per chi viene controllato che per il controllore però c'è chi ha bisogno anche di questo il mondo è bello qualche vario si diceva una volta allora come avete visto ci sarebbero davvero tanti temi da approfondire per chi vuole insomma molti di questi spunti li potete trovare appunto nelle bellissime live che ha fatto Macro Ibrarsi con Vivi Consapevole live vivere vivi consapevole in questi giorni li trovate vi invito davvero ad andarle a vedere ci sono decine di interviste sono state credo in tutto sei giornate di incontri molto belli dove molti di questi temi sono stati approfonditi da tantissimi ospiti io vi saluto vi ricordo che trovate su Italia che cambia.org anche appunto le interviste a Francesco e tantissime informazioni e approfondimenti su questi temi sui tavoli Visione 2040 vi invito a guardare la rassegna quotidiana di Andrea degli Innocenti io non mi rassegno sempre su Italia che cambia.org e noi ci vediamo tra una settimana sempre martedì sempre alle 19 buona serata a tutti e tutte ciao a presto ciao Francesco ciao Daniel grazie aspetta che non riesco a fermare la registrazione ce la posso fare ecco